Michela Spadaro, le tue prestazioni sono in crescita, diceva prima Salvatore. Come ti senti per la prossima partita? Diciamo che bene, mi sento bene. Ci stiamo allenando sodo, stiamo facendo palestra, allenamenti, tutti come squadra. Speriamo bene, vediamo come andrà adesso la prossima partita. Dal punto di vista tattico, cosa ti aspetti per la prossima? Bisogna vedere com'è la squadra di là. I nostri allenatori già stanno preparando un allenamento proprio in base anche a quello che abbiamo dall'altro lato. Però noi puntiamo principalmente sulle nostre capacità. Ognuna però come ragazza ma anche lavorando sempre di squadra, di gruppo. Quindi se noi siamo forti e siamo unite come squadra e come gruppo possiamo vincere. Diciamo che il tuo nella squadra è un ruolo un po' particolare. Spiegacelo un attimo così al volo. Ma diciamo che io mi occupo principalmente della difesa. Entro solo in difesa e c'è l'altro libero anche che entra in ricezione. E devo a tutti i costi prendere il pallone. Sempre. Non deve cadere una palla a terra. Qualsiasi palla. Dicevi che non deve cadere nessun pallone. Ma che cosa ti ha lasciato scritto sullo zaino mister albanese? Mi ha lasciato scritto proprio che il pallone non deve cadere a terra. Se no sono rullate. Grazie. Grazie mille. Grazie. Direttore Marafioti, l'ultimo colpo è pronto per esordire sabato? L'ultimo colpo di mercato naturalmente. Stai parlando di Maria? Sì. No, non sarà pronta per sabato sicuramente perché abbiamo problemi con il transfert da parte della federazione bulgara. E quindi vediamo un pochettino. Settimana prossima sicuramente. La prossima partita è sicuro. Giocatrice di sicura esperienza anche dal punto di vista però manageriale e come allenatrice ha allenato fino a pochi giorni fa il CSKA di Sofia come giovanili. Quindi può dare una mano anche dal punto di vista tecnico e tattico a questo punto? Ma sicuramente l'abbiamo presa proprio per questo, per farci fare il salto di qualità. Lei è una palleggiatrice con tanta esperienza. Vedremo un pochettino il da farsi e ci aspettiamo grandi cose. Maria l'abbiamo presa. Quest'anno ci aiuterà a vincere il campionato. Dovremmo, si spera, di vincere il campionato. Il prossimo anno sicuramente rimarrà con noi ma non come giocatrice ma sicuramente come allenatrice perché vorremmo sfruttare la sua esperienza in quei campionati che lei ha fatto per far crescere le nostre ragazze. Vittorio, la risposta che ti attendevi si è vista sabato? Almeno dal mio punto di vista c'è stata. Sì, sì, sì. Tutto sommato abbiamo fatto una bella partita, un bel risultato netto. Siamo contenti, era quello che volevamo. Era importante reagire bene anche se abbiamo fatto parecchi errori gratuiti analizzando la partita però va bene. Era importante prendere i tre punti e in questo momento ci siamo riusciti. Vittorio, dal punto di vista tattico ci sono stati vari aggiustamenti in formazione. Pensi di aver trovato la quadra giusta ora o ancora stai lavorando sulla testa delle ragazze? Noi lavoriamo su tante situazioni tattiche, a dirti la verità. Di volta in volta, in base alle partite, le mettiamo in atto. In questo momento abbiamo trovato un equilibrio, c'è da migliorare ancora tanto su alcune posizioni che ogni tanto vanno a saltare. Però quotidianamente è quello che noi facciamo in palestra. Lavoriamo, appunto sono ragazzi giovani e lavoriamo tanto su questo qua. Però bene o male, a livello di sistemazione tattica, stiamo iniziando un pochettino a quarrarci. Se analizziamo la classifica, abbiamo nei primi tre posti la DEA, abbiamo il Redan, Metro Volley. Pensi ci sia una quarta forza che possa comunque accedere facilmente alla fase dei futuri play-off? Sì, tu non hai nominato il Volley Rocella, hai nominato la Redan, non hai nominato il Volley Rocella. Io è da inizio anno che dico che il Volley Rocella, secondo me, resta sempre una delle favorite del girone, che sarà una delle squadre che fino all'ultima giornata giocherà per i primi posti proprio di questa griglia play-off nel girone nostro. Secondo me è una delle squadre più esperte, l'anno scorso tante delle quelle giocatrici giocavano in Serie C, hanno fatto addirittura i play-off per andare in B. Quindi per me resta una delle favorite al girone, nonostante la sconfitta che ha subito domenica scorsa in casa con il Villa San Giovanni. Per me è una delle squadre più offerte, più forti, che porto più rispetto. Il Gioia Tauro, l'abbiamo notato, è una bella squadra, ragazze giovani, agguerrite, non molleranno un punto. E noi siamo insieme a loro. Secondo me siamo queste tre squadre che fino all'ultima giornata ci giocheremo la griglia dei play-off, i primi tre posti. Poi alla fine chi ha più continuità la spunterà per il primo posto. Parliamo di sabato, la My Mami. Che partita prevedi? Non vogliamo sapere dal punto di vista tattico cosa farai, ma che tipo di partita prevedi? Allora, la My Mami è una squadra giovanissima, è una squadra molto, molto fastidiosa. Ci sono tante ragazze valide, in prospettiva brave, hanno un buonissimo allenatore, una società all'avanguardia sul territorio reggino. L'anno scorso ci ha dato tanto, tanto filo da torcere. Vabbiamo a prescindere dalla My Mami, come ti dicevo già domenica. Se non affrontiamo noi le partite nel modo giusto come si deve, soffriamo con tutti. Quindi siamo già con la testa alla partita, ci teniamo a fare bene, con tutto il rispetto per l'avversario, ma dobbiamo essere noi a dare il massimo, soprattutto in casa. Quindi bisogna battere prima se stessi dal punto di vista mentale per essere presenti e poi gli avversari? Io a dirsi la verità ho paura prima della mia squadra. Se la mia squadra reagisce come deve reagire, rispetto per tutti, ma non tembiamo nessuno, capito? A gioia abbiamo avuto un crollo totale, principalmente nostro, lasciando fuori i meriti del gioia, ci mancherebbe. Però se la squadra gioca, ce la giochiamo con tutti, ce la giochiamo con tutti. Bocca al lupo per sabato, crepi, grazie.